Arrivano 800 euro per gli studenti universitari siciliani fuori sede. Si tratta del contributo che la regione siciliana aveva deciso di erogare nella scorsa primavera in piena emergenza Covid. Considerata la disponibilità delle risorse finanziarie, oltre 4 milioni di euro, effettuate le dovute variazioni di bilancio e fatta la pubblicazione online della graduatoria del bando riservato agli studenti siciliani universitari che studiano nelle altre regioni italiane, da ieri l'ERSU Palermo ha provveduto all'invio dei mandati di pagamento in banca per cui all'incirca entro tre giorni lavorativi gli studenti riceveranno sul proprio conto corrente l'importo di 800 euro previsto dal bando di concorso. Il bando prevedeva la spesa di 4 milioni di euro che il governo musulmane ha destinato in favore degli studenti in situazione di disagio per l'emergenza epidemiologica e che sono iscritti in Atenei, Accademia o Conservatori di Musica al di fuori della Sicilia. Sono 5 mila 148 gli studenti siciliani che studiando in Italia ricevono adesso l'assegno di 800 euro in basso alla graduatoria. La priorità è stata data agli studenti che hanno mantenuto il proprio domicilio fuori dalla Sicilia alla data della presentazione della domanda. Si tratta di 4 mila 539 studenti mentre per gli studenti che hanno fatto il rientro in Sicilia durante l'emergenza covid e la scorsa primavera sulla base delle risorse disponibili con il bando sono stati ammessi al contributo 609 studenti su 3 mila 826 che avevano presentato in stanza. Il ritardo nell'accreditamento degli 800 euro è stato legato agli aspetti tecnico-economici legati al bilancio della regione. Il ritardo nell'accreditamento degli Eliseri